Vedete, queste sono tutte le macchine a controllo numerico che servono per la produzione e ovviamente il personale che serve adesso è il personale che queste macchine le sappia a gestire, per cui, e qui mi dice ovviamente il titolare che se ne trovano pochi, quindi diamo un consiglio ai nostri ragazzi che vogliono scegliere la... Non voglio smettere di andare a fare i ragionieri, servono delle figure professionali, ragazzi che abbiano voglia di lavorare, quantomeno dei periti, ragazzi che abbiano voglia ancora di fare, di creare... Periti, ingegneria, perché un po' di programmazione se vogliamo... Grazie. Allargare queste scuole professionali, insegnare i ragazzi... È stato una cosa, un mio chiodo fisso anche in bilancio per passare cose per le scuole professionali, almeno ve lo dice lui, almeno sembra che non sia una fissa mia quella delle scuole professionali che avevo chissà che, servono le scuole professionali, ve lo dice uno che assume quelli che poi escono da queste scuole.